Giacomo, la gente vuol sapere, il tuo rapporto con la società e soprattutto parlando della campagna acquisti, iniziamo a parlare di stellato e di mandato per poi andare avanti e cercare di capire come sarà il Cervinara 2014-2015. Certamente, il mio rapporto con Joe e il co-presidente, lo sapete tutti, è un intimo amico, mi aveva chiesto di far parte della società come nella figura del direttore sportivo. Non ho preso tempo, non gli ho detto di no, non gli ho detto di sì, ho detto che collaboro con te, finché ci sono le certezze, i programmi giusti e poi andiamo avanti e vediamo un po' cosa si può fare, perché Cervinara è un po' di tutti, non soltanto quello di Joe o di chi fa calcio, Cervinara può rendere certe la dinanza, ho detto che raccogliamo più persone attorno a noi e poi facciamo un certo discorso. Lui sta facendo di tutto e bisogna anche lotare le sue iniziative e i suoi sacrifici, perché sta facendo di tutto per allestire una squadra che certamente da fila di torcere ha parecchie compagini che sono partiti col piede di vincere il campionato o per la quale, diciamo, di fare un grande campionato. Cervinara io penso che con gli acquisti di Stellate e Mandate certamente ha dotato la propria compagine di gente esperta, gente che è abituata a vincere e certamente può dire la sua per un campionato di vertice. Mister Puzio sembra che voglia adottare un 3-5-2, quindi teoricamente in difesa con la conferma di Simone Cioffi, con l'arrivo di Curcio, con la conferma di Pace serve qualche altro elemento. Centrocampo è il fulcro dove manca, dove veramente manca qualcosa, mentre in attacco con l'arrivo di Mandato, con Mortelliti e con Stellato sembra che ci sia qualcosa in più che sicuramente possa fare la differenza. Certamente, non compete a me dare dei consigli a Puzio, Puzio ha le idee chiare, io ho avuto modo di scambiare di qualche parola un mese fa, le idee e il programma è chiare. Certamente il suo schema che predilige è 3-5-2, ma lui si adatterà alle caratteristiche dei calciatori che il presidente Ricci gli metterà a disposizione, giocatore, come dicevi tu, di fiore di prima qualità. A centrocampo, se riuscirà anche a portare Santini, penso che Cervinale ha qualche nome che neanche una squadra di eccellenza può spendere, perché un attacco, come dicevi tu, di Mortelliti, Mandato, Costellato e lo stesso Santini, farlo come vivere insieme, però sarà un problema e sarà anche un dilemma di Mister Puzio, è un attacco e un centrocampo che difficilmente anche nelle squadre di eccellenza si annovera. Senti Giacomo, parlando un pochino delle altre squadre, spostiamo il discorso sulle altre squadre, il Montesarchio si è parlato e riparlato, quindi tante volte sappiamo già la forza del Montesarchio, mentre per quanto concerne il Paolisi ha preso due fiori di giocatore e sono Iade Rosa e De Rosa, poi c'è Pedecca e molto probabilmente andrà a Paolisi, c'è il portiere fuori cuore del San Felice, quindi diciamo che Mister Facchino con il presidente Mauro sta cercando il meglio. Per quanto concerne il Grotta, con l'arrivo di Salvio Casale, anche se Mister Casale un pochino nella nostra intervista si è nascosto, però sappiamo benissimo che con Surro da direttore sportivo e Salvio Casale in panchina, anche il Grotta vorrà dire la sua. Mentre del San Tommaso si aspetta il ripescaggio, qualora non venisse ripescato è un grosso problema. Diciamo che queste sono le squadre che almeno dalla carta, insieme al Mugnano e qualche sorpresa, dovrebbero essere protagonista del campionato. Sì, come dicevi tu, il Paolisi certamente non è un buon compagno, ha ritoccato un po' dove aveva bisogno, perché Mister Facchino sa il suo fatto, quindi due giocatori esperti come Iade Rosa e De Rosa non fanno altro che allestire una grande squadra, lo stesso Pedecca che viene da 4-5 campionati all'Artezza. E poi giocare in quel campo, se hanno la telega, loro sono già abituati, voglio dire che il Paolisi sarà difficile stanare lì a Paolisi, quindi sarà una compagno e una neopromossa che veramente farà, secondo me, a mio avviso, un grande campionato. Come dicevi tu, il Montesaccio non bisogna dire niente, la squadra è stata allestita da vertice e deve certamente confermarsi. Io penso che anche Mister Ferrara abbia vinto le sue pressioni, sa che oggi con la conquista del campionato con la Forza e Coraggio ha già maturato parecchio, quindi penso che quest'anno farà ancora bene, quindi con l'allestimento della squadra, che di primo ordine deve certamente centrare l'obiettivo, che è quello della promozione. Come dicevi tu, lo stesso Grotta, Grotta con l'acquisto di Savio Casale in banchina, ha preso forse uno dei migliori tecnici della categoria, o se non è addirittura il miglior tecnicico, sa il fatto suo, è esperto. E poi Grotta viene da una grande piazza, quindi ha già, siamo confermati, ottimi campionati. Mi ricordo un spareggio per l'Interregionale, quindi figurati, se non hanno ambizione, non dico di vertice, ma di fare sicuramente un grande campionato. San Tommaso, come dicevi tu, si bisogna vedere, se lo confermano in promozione, sempre squadra un po' dell'avellinese, molto duttile, dura, difficile giocare sui propri campi, come il Ralforini, quindi quest'anno secondo me, con l'avvento dei derby, perché basta pensare anche che San Martino sta allestendo una squadra giochi, però certamente che in casa darà del filo della dolce, ci sarà sicuramente da vedersi e da divertirsi. Chiudiamo con una risposta ai tifosi del Cervinara, che si attendono tanto, ma soprattutto si attendono il ritorno di Giacomo, ora in veste di collaboratori, poi domani si veda, però Giacomo è una certezza per loro, perché è stato sempre l'anello di congiunzione tra società e tifoseria. È vero, ma però voglio dire, come dicevo io, se noi ricopriamo parecchie persone, parecchi soci che stanno all'esterno per dare una mano a Giove, perché questa piazza ha bisogno ovviamente di aiuto, solo Giove non può farcela sinceramente, se ci sono i presupposti e c'è il rientro di qualche persona importante, il sottoscritto è a disposizione per qualsiasi cosa, niente da togliere, che a Giove una mano gliela dovo volentieri, anche perché lui, nelle passate stagioni, neanche quando noi avevamo i protagonisti, come direttore sportivo, il presidente Angelo Antonio Starace o altre persone, lui non si è mai diretto in dire, perché no? Non lasciarlo solo, non lasciarlo solo, sarebbe un diritto lasciarlo solo, quindi non lasciarlo solo è un bene secondo me.